Oddio, secondo voi di cosa si occupa? Formaggi, latte, una corsa tramucca dove la rossa vince Tra le due zampe davanti di quella rossa c'è una parte bianca che non è stata cancellata E di quello sopra se tu guardi sembra che abbiamo una pancia enorme Nessuno la prenda sul personale, ok? Sono loghi Ovviamente a livello tecnico mi spiace Io sono innamorato, non riesco a distaccare lo sguardo a questo loghi Buongiorno e benvenuti a questa nuovissima puntata di Illumina Osta Sono qui con i miei amici di AO Studio, buongiorno Buongiorno, un'energia incredibile di più ottima Loro, di cosa si occupano? Loro sono dei grafici, fondamentalmente i due davanti Sì, io me le tolgo Principalmente io, la coscienza dietro invece è il fatto Esatto Ok, li ho invitati perché io voglio parlare di loghi molto local Qui in Valle d'Aosta è risaputo essere tradizione una... Grande città di design Esatto 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 E quindi faremo un'analisi dei loghi valdostani Ma prima abbiamo un aggiornamento Noi abbiamo già fatto una puntata insieme In cui abbiamo parlato del logo della Valle d'Aosta Esatto Del cuore Del cuoricino Sì, l'ho un po' sofferto a forma di cuore Bene A luglio è uscita la notizia che la regione ha registrato il marchio Che culo Sì, ha preso in considerazione ciò che abbiamo detto Ha visto noi parlarne Quindi ho detto mi sa che registriamolo Di conseguenza è ufficiale, tra virgolette Ah, mi raccomando Se non avete visto la loro proposta alternativa Perché durante la puntata che abbiamo registrato in primavera Loro mi hanno fatto una proposta alternativa Esatto Andate a vederla Quindi recuperatevi la puntata e poi andate sui loro social a vedere la proposta Esatto Esatto La trovate in mezzo al profilo Abbiamo pochi post Ce la fate e non avete scuse Va bene, no Perché è una proposta molto figa E quindi essendo molto figa La regione non l'adotterà mai No, no Abbiamo messo anche E l'ha detto proprio Ce l'ha fatto capire esplicitamente Allora io vorrei leggervi le dichiarazioni dell'assessore al turismo Che salutiamo Un saluto all'assessore Dopo un lungo iter autorizzativo Abbiamo ottenuto da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy La registrazione del marchio raffigurativo collettivo Cuore Valle d'Aosta Un logo che nei suoi pittogrammi rappresenta l'essenza dell'offerta della nostra regione Dallo sport all'artigianato Dalla montagna alla cultura Dall'enogastronomia al patrimonio ambientale Dall'osciatore alla palla da bowling Dalla cipolla C'è tutto, c'è tutto Vabbè, allora Dovete sapere che noi quest'estate ci siamo visti per fare un aperitivo E durante questo aperitivo Fabio Che è il personaggio lì dietro Ah, tra l'altro un saluto a Samuele Che oggi non c'è Sì Ciao Sam Che ci guarda da casa Mi spiace Perché ha avuto paura Gli ha detto vi metto in difficoltà e Samuele non è venuto Ma ha dato Fabio C'è spaventato Esatto Fabio mi ha fatto notare una cosa E quindi ve la faccio notare anche a voi Arriviamoci così Perché è interessante Dall'articolo di Aosta Sera si legge questo Il marchio regionale di promozione turistica della Valle d'Aosta Cuore del Turismo Quindi si chiama Cuore del Turismo Cuore del Turismo, bello 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 È nato con un concorso internazionale bandito nel febbraio 2004 Cioè questo logo ha 20 anni Tra le 350 proposte Io voglio vedere le altre Sapevo fossero 350 350 proposte E tra 350 proposte è stata scelta questa Quindi io voglio vedere veramente tutte le altre 349 Per favore Assessore che ci segue sempre Erano i loghi dentro Erano tutti i loghini dentro Esatto Erano tutti insieme 349 proposte Sì sì Cambiandoli A vincere è stato il progetto creativo Presentato dallo studio grafico Narcisi e Siva di Milano Allora noi siamo andati a vedere che cos'altro ha fatto questo studio E ha fatto delle cose fighe Eh sì Tipo tutto il branding di Torino 2006 Esatto È già un'agenzia grande C'è uno studio bello importante È già un bel lavoro Cioè un bel lavoro grosso È un lavoro molto grosso E poi quindi un appello agli amici di Narcisi e Siva Che ci seguono sempre Sicuramente Ma perché a Torino 2006 questa cosa E invece a noi il logo a forma di cuore Cioè che vi abbiamo fatto? Hanno già capito tutto Come sarebbe andata Cosa avrebbero accettato Cosa la Valle d'Aosta avrebbe voluto Secondo me era uno scherzo magari Della serie Tenetevi questo Sì In realtà era la regione Lombardia che ha detto Sentite la regione Valle d'Aosta è troppo potente a livello di turismo Buttiamola giù E appunto magari erano tutti di fuori E hanno detto abbassiamo la Valle d'Aosta Esatto Il problema è che è pure piaciuto poi qua il logo Sì 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 Vabbè E quindi meglio così in realtà Ma analizzando la questione Cosa abbiamo scoperto con Fabio? Che Torino 2006 ha vinto E quindi insomma è stata la città delle Olimpiadi Invernali nel 2006 Ma sapete quale città era candidata sempre nel 2006? Il fratello nascosto Era la Svizzera a candidato Sion E voi mi direte Ma quindi Che c'entra? Che ce ne facciamo di questa informazione? Volete vedere il logo di Sion 2006? Oh Tadà Bellissimo Però non c'è il cuore Qua non c'è il cuore C'è da dire che non c'è il cuore C'è Non c'è neanche la stella alpina comunque Però no C'è vicino allo stambecco c'è un fiore che la ricorda Ah beh sì è vero è vero Io sto cercando la palla da bullying No però c'è il cuore Non l'abbiamo fatto noi stavolta Non è stato modificato Quindi loro nel loro caso hanno messo La Svizzera C'è la bandiera della Svizzera Lo sciatore Un castoro Una marmotta scusa forse Cosa è molto più confusa Però questo è ancora peggio Non è neanche dentro un ricorda Cioè non è dentro la montagna Però una montagna a parte Delle mani a caso tipo Messe così in posizioni strane E due volti Cioè nel senso Quello di una donna E uno strecciatissimo vicino Uno è un estremato L'altro è un alieno Sì La mano non si capisce Ah no c'è un altro anche so Cioè c'è uno sopra e uno sotto Di volti Però fatto sta che ha perso Avevano il progetto da riutilizzare Probabilmente Ma non l'hanno fatto loro questo Non l'hanno fatto Non l'hanno fatto Narcisi e Siva No 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 Quindi è un altro studio Che ha fatto questo Secondo me però Narcisi e Siva Ha visto Non vogliamo dire Che l'abbia copiato Per carità Non ci permetteremo mai Di dire una cosa del genere Però ha colto la palla dal basso Ha detto sicuramente Questa è la Valle d'Aosta Che sta proprio dentro Completamente E hanno ragione Effettivamente Avranno pensato Svizzera Freddo Valle d'Aosta È la stessa roba Gli piacciono i simboli Vabbè Un'altra cosa Che non abbiamo analizzato Nella scorsa puntata È il logo della regione Che è diverso Dal logo turistico Della Valle d'Aosta Che è questo qua In realtà non c'è molto Da analizzare Questo a me piace Cioè dovendo essere Uno stemma ufficiale Eccetera Però è fatto veramente bene Siamo d'accordo o no? Vai Vai Ti lascio andare Cosa pensavi Che mette ad essere un simbolo No Minimal No bello Sì Cioè ne si può discutere Nel senso che comunque È funzionale Forse il tratto grafico È un pelino datato Nel senso sarebbe magari Un po' da rivedere Magari un po' più semplice Però no Cioè di per sé Come struttura È un bel logo Allora L'altra volta Questi bellissimi ragazzi Mi hanno fatto Un giochino Inserendo dei simboli Che non esistevano All'interno del logo Della Valle d'Aosta Ora ho deciso Di ricambiare Quindi ho deciso Di testarli Su alcuni loghi Molto local Io ho tolto La parte testuale Del logo Ok Che spesso È anche molto importante Giustamente Quindi è rimasto Solo Il segno grafico Dovrete dirmi Che logo è E se non sapete Che logo è Visto che è probabile Che non sappiate Che logo è Dovete dirmi Che cosa fa Quell'azienda Quell'ente Quella cosa lì Divertente E soprattutto Mettete like al video Se siete arrivati fin qui Vuol dire Iscrivetevi al canale Vuol dire che vi sta piacendo E iscrivetevi al canale Bravo E andate a seguire O studio Ecco Va bene Giusto Giusto anche così Partiamo dal primo logo Il primo che vi ho selezionato È il più iconico Secondo me È il migliore di tutti Oddio Oddio Io questa credo di saperla Allora se la sai Non parlare Secondo voi Di cosa si occupa Quest'azienda Quest'ente Questa cosa Ti direi Non lo so Formaggi Latte Da un lato Viene in mente Qualcosa del genere Quindi più formaggi Latte Dall'altra C'hai speciali C'hai dietro sta roba In grigio metallizzato Questa è la qualità Pagherissima A cui l'ho trovata Questa è la qualità massima Bellissima Alla quale l'ho trovata È una corsa tra mucche Che è comunque Una scelta stilistica Una corsa tra mucche Dove la rossa vince Ma tra l'altro Scusate Perché Allora Tra le chiazze Della mucca Perché in quella rossa C'è tipo un serpente Sulla spalla Tipo al dezzo Magari è tipo Il mondo C'è anche un dettaglio Tra l'altro Che tra le due Zampe davanti Di quella rossa C'è C'è una parte bianca Che non è stata cancellata E di quello sopra Se tu guardi Sembra che abbiamo Una pancia enorme Perché non c'è Non c'è tratto È vero Ok In questo punto Sento che andremo Nel dettaglio Ho questo tipo Io sono Nessuno la prenda Sul personale Ok Sono loghi Sono dei disegnini Vabbè Ve lo svelo Vai Ve lo svelo Questo è il logo di Arev E voi mi chiederete Che cos'è Arev Arev è L'associazione regionale Elever Val d'otene Elever Significa Allevatori Quindi Associazione regionale Degli allevatori Ah beh Dai vabbè Ha senso Mettere le mucche Forse in questo caso Cioè Non proprio così No Però per carità Non mi chiedere No Non così Questo è un tipo di logo Molto Didascalico Nel senso Non troppo Non troppo Potevano essere direttamente Degli allevatori Messi lì Quindi poteva andare peggio A dire il vero Tra l'altro loro Se non sbaglio Cioè È un tipo un ente Che certifica anche la carne Valdostana Da mangiare proprio Certo 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 È un ente ufficiale Non ha bisogno di essere Troppo didascalico In realtà Basta che riesca a comunicare I valori Che deve comunicare Alle persone A cui deve parlare In questo caso È anche possibile Che l'AREV Non debba parlare Praticamente a nessuno Nel senso Magari semplicemente A aziende Ad altri enti E di conseguenza Passa anche un po' In secondo piano La questione del logo Quando interagisci Con un determinato Tipo di target Quindi insomma Non saprei cosa dire Perché ovviamente A livello tecnico Mi spiace Io sono innamorato Non riesco a distaccare Lo sguardo da questo logo Cioè io non lo capisco In tutte e per tutte Sono lì Che dico E forse funziona per quello Perché ti rimani impressa Questa Sappiamo da quanti anni è così Io me lo sono ricordato Sarà un po' di anni Io l'ho visto Me ne sono ricordato Cioè tu l'hai riconosciuto Quando ti ho detto Forse so cos'è Era Lo sapevi veramente Sì 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 Vabbè andrei al prossimo logo Il prossimo logo è un po' A un tratto direi Un po' più moderno Che cosa potrebbe essere Secondo voi? Il cervino Sì Che cosa dici? Istico Tipo Siamo in Valle d'Aosta Qual è la probabilità Che un logo Inserisca una montagna? 99% No esatto Esatto Infatti questo è sempre Un po' un problema Perché puoi anche mettere Solo la mucca Come quello di prima Esatto Esatto Ma è molto moderno Diciamo che la montagna Può andare bene Davvero su tutto Allora ve lo dico io Questo ve lo svelo Non potete minimamente Arrivarci se non lo riconoscete Questo è il logo Della fontina E quindi Potevano metterci Una forma Di fontina Però qua C'è un lavoro Bello studiato Ok Aiuta a noi Che non siamo grafici A capire perché invece Perché questo logo Si è quello di prima No Ma allora Innanzitutto Anche a livello tipografico Del logotipo È ben curato Insomma È ben gestito È ben bilanciato Ecco Non so perché la T Sia così grande Perché Fontina Fontina Sì Però vabbè A parte questo Lo rende molto Centrale Cioè nel senso È ben bilanciato Anche Anche la scritta sotto Di OP Valle d'Aosta È ben inserita Non utilizzano Caratteri superflui O comunque Difficili da leggere È tutto ben bilanciato La montagna sopra Comunque Non capisco Perché abbia dei tratti Cioè Da questo punto Potevano farla È un po' cattiva Questa montagna È un po' spigolosa È un po' spigolosa E tra l'altro Potevano anche farla Direttamente Speculare Nel senso che Cioè a questo punto Non è simmetrica Non è simmetrica No Non è simmetrica Delle parti che cambiano Quello non capisco Per quale motivo Ma Ma poi queste parti qua Tendenzialmente sono Stiamo vedendoli Sì Stiamo andando nei dettagli Nel senso che Appunto Cioè La differenza Ci sono dei fattori Che sono O funziona O non funziona E dei fattori Che io l'avrei fatto In un modo Lui l'avrebbe fatto In un altro Eccetera Ma io faccio notare Che questo Viene anche marchiato a fuoco Proprio sulle forme Di fontina E questo è una figata Incredibile E questo logo Effettivamente si presta Sì Molto più Del logo Ma poi secondo me Prova a marchiare a fuoco Comunque per me Da esterno Da non grafico Questo è un logo Veramente iconico Cioè Solo la montagnetta È un elemento Secondo me Appunto In più Ma Il nome fontina Così Lo vedi E lo riconosci Ovviamente È scritto fontina Però secondo me È abbastanza iconico Come roba Poi sembra il logo Di NordVPN Non so perché Mi viene in mente La roba di NordVPN Perché se togli fontina Può sembrare Sì Diciamo che la parte importante Se NordVPN Avesse sponsorizzato Questa puntata Questa è arrivata Un momento VVN Visto che ormai Su YouTube Si fa la gara Chi fa la sponsor Più figa Ma invece NordVPN Non sponsorizzato Prossimo Wow Qua no Non ci sono Avrà qualcosa A che fare Con la battaglia Delle reine No secondo me No Secondo me È tipo una latteria Può darsi Che sia vero Anche una latteria Questo è il logo Che fa il cugino Tipo Ah mio cugino Fa il grafico No tra l'altro No raga Hanno usato Il nostro logo Che no C'è un cugino C'è un asterisco C'è un asterisco È vero È più facile Di quello che sembra La battaglia Delle reine Allora Per me era La battaglia Delle reine È corretto Allora Per chi ascolta Questa prima puntata Senza aver ascoltato Tutte le altre Beh dovreste sapere Che cos'è La battaglia Delle reine Vuoi spiegarla tu A Illuminata L'abbiamo soprannominato Il sumo delle mucche Tradizione valdostana Qui raffigurata nel logo È esattamente quello È esattamente Questo è un logo Molto discrittivo È l'associazione regionale Ami Bataille Del reine Perché sono amici Perché sono Quindi Non sono quelli Con le mucche Traduzione regionale Amici Della battaglia Quindi Appassionati Esatto Che è poi l'ente O l'associazione Che la organizza Ok Quindi di fatto Potremmo estendere Cioè potremmo dire Che questo è il logo Della battaglia Penso che creerò L'associazione regionale Amici Dillumina Osta Però Disegnate esattamente Noi così Lo facciamo Sui forzette Diciamo amici Sì Noi Con la Con il ricordo Imagine di illustrator Proprio stampati così Simboleggia Un po' proprio gli amici Proprio il logo Dell'amico Amici Della battaglia Non denunciateci Dopo aver detto Questa cosa Invitateci Questo Invitateci A farvene uno nuovo No Che veniamo alla battaglia Prossimo logo Allora Io vi do un indizio Non è un logo È la palette Questa è solo la palette Dovreste già Indominarla Sì sì Ci siamo Ci siamo Dite voi Cidak Bravo Gross Cidak Gross Cidak Qui si vede Che Poteva anche essere Edel Ma anche perché L'ho notato Recentemente Stavo già Questa palette Per i valdostani Questo è il turbo Dietro al carrello È riconoscibile Esatto Eccolo Perché questo È tipo la palette Dell'Iren Il carrello Più veloce Della valle Questo è il logo Gross Sottolineo che Anche qui È la massima qualità Sì Che ho trovato È un carrello Veloce Velocissimo Non so Vaporwave È proprio È uno stile Tutto a sé Perché io Ho trovato Delle altre versioni Di questo logo Ah sì E ancora più veloci Perché Qui se hai fretta Di fare la spesa Ma qua stava Proprio decollando Cioè non era veloce Era proprio Però non solo Perché c'è la versione Ancora più veloce Questa è lunghissima Questi qua sono i 100 metri Dalla cita Vabbè Ipermercato proprio Cioè Iper È proprio Acceso Sui loro social però C'è un'altra versione Del logo Che non è questa Ma è questa Eh Bella E che riprende comunque Sì Questo non è veloce Questo si è fermato Questo si è fermato E ti guarda Perché Mi lascio l'analisi Dai Poi inizia te Sempre io Eh sì Perché ho paura di dire Va bene Allora Da un punto di vista Tecnico Ci sono alcune cose Che Sono un po' Alcune Alcune Tipo Innanzitutto A parte che Non è allineato E questa cosa Mi dà un fastidio Incredibile Il rosso del gross Cidak Non penso nemmeno Sia uno dei colori sopra No 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 Ecco tra l'altro Ci sono tantissimi colori L'unica cosa che esprime Forse La spesa veloce Però Eh sì È molto la spesa veloce Però la Cidak Non vai per fare la spesa veloce No La Cidak vai per vivere L'experience Ma poi è tipo Famiglia C'è il concetto Aldostano Molto In questa puntata Non stiamo facendo Delle proposte Perché se dovessimo fare Delle proposte alternative Una puntata ogni sei mesi Dovremmo Esatto Sarebbe La concezione di un logo Comunque un rebranding È una cosa molto lunga Però Scriveteci nei commenti Se volete Quali dei loghi Presenti in puntata Volete Che loro Rimodernizzino Noi facciamo la Cidak Sto decidendo Ora Che dovete Lavorare Ci sta Piccola premessa Riguardante un po' Anche tutti i loghi Noi li stiamo vedendo Vedendo così In maniera singola Presi singolarmente Piazzati su fondo bianco Poi magari Messi nel loro contesto Con un'ipotetica identità aziendale Che nella maggior parte dei casi Non ci sarà Ma va bene lo stesso È possibile che poi I feedback Siano anche diversi Tipo quello della MiValdotene No ecco no Quello funziona Però tipo la fontina Per dire Poi come va A comunicare sui social Com'è sulle forme Della fontina Com'è magari Nella sede L'insegna I documenti La comunicazione Anche al di là Dei social Anche tradizionale Insomma ci sono Vari elementi Che sono assolutamente Da considerare Ma io vi assicuro Che tutti i loghi Che vi ho fatto vedere Fino adesso Non hanno Un'identità E allora Ci pensiamo a noi Andiamo avanti Prossimo logo Ve lo scompongo Cinema Ho tolto degli elementi Ho tolto degli elementi Per farvi intuire Cinema Perché tu dici pellicola Cos'altro può essere? Vabbè una carreggiata Può essere Una carreggiata Se io ti do un'altra indizia Ok Non una carreggiata La carreggiata La nuova carreggiata Allora Attenzione Siete pronti? Allora Allora Questo è il logo Voi sapevate che La ciclabile di Aosta Ha un logo? No E che il nome Della ciclabile di Aosta Ecco Ecco E quello che Veloce? Cioè la ciclabile di Aosta Si chiama Veloce Mamma mia Perché Geniale Che è geniale Però ti dice Come il carrello Non fa tempo di andare Anche veloce Scusa Spieghiamo per gli amici Fuori valle Che non sanno francese Velo in francese significa bicicletta Bicicletta C'è in francese non significa niente Quindi c'è questa contrapposizione tra italiano e francese Siamo bilingui E non capisco Cioè Utilizzato dove? Cioè Nessuna parte È un ciclabile Ma anche perché Veloci sarà Forse non ci sta No ma da nessuna parte Non è utilizzato da nessuna parte Però l'hanno creato Nella comunicazione Quando devono fare un post Per dire che Sulla ciclabile Mettono questo Molto interessante Questa cosa Ma Comunque devo dire che Vi ho lasciati senza parole È molto coerente comunque Cioè La tipografia riprende comunque Anche le strisce Le linee Lo spazio che c'è È un'idea pazzesca Piero È un'idea incredibile Tra tutto questo Fosse stato senza la biciclettina sopra Probabilmente Però non si capiva Non si capiva Non si capiva C'era scritto velo Io sono ancora convinto che sia un film sulle bici Però scritto così può sembrare molto militare Sì è vero Molto militare Questo può essere anche molto molto militare È vero Sì Comunque Andrei avanti Prossimo logo Oddio No L'ho riconosciuto Lo riconosci? Credo di riconoscerlo È quello È quello Veramente Non ha senso a vederlo così Perché è veramente un senso Ma credo di averlo capito Aspetta Pier Tipo l'USL o l'IRV È l'USL o l'IRV Sì Secondo me Allora Dite che cos'è l'USL Per gli amici È l'azienda sanitaria È l'azienda sanitaria Sì esatto Non saprei neanche cosa vuol dire USL No Donnas Scusate Unione No No Poi S Sanitaria Locale Locale Unità Unità Sanitaria Unità Può essere Può essere Non lo so senza guardare Vabbè Fateci sapere Non ho voglia di cercare E scusa E l'IRV invece è un centro medico Che fa cose Che poi non è tipo AUSL Tra l'altro Non lo so Che è un senso Però poi c'è anche l'ASL Che è una cosa diversa È vero l'ASL Ancora Sta venendo un altro indire Vai No 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 Ma tipo CGL Qualcosa Ah potrebbe anche essere È vero È vero Perché sembra Oddio Questo mi fa capire Che questo contorno Della Valle d'Aosta Potrebbe essere tutto Potrebbe anche essere Il logo della fontina Però non può essere Il Piemonte Non può essere il Lazio Di conseguenza Allora Vi do un altro indizio Ok Allora ce l'avamo Allora ce l'avamo Questa croce Eh ma Questo intanto fa parte Azienda USL Eh vedi ASL Perché azienda Ma perché AUSL AUSL Ah vedi Eh sì Valle d'Aosta Valle d'Aosta Anche lì Ebbè Quindi tutto Bilinguismo Il fatto che ci siamo arrivati subito È già una roba In effetti Sì Non so neanche perché È un gran sicuro Cioè obiettivamente Perché quando sei lì Tipo a fare le analisi Che aspetti Che passino tutti gli anziani Tu sei lì Devi guardarti attorno C'hai anche il logo lì Quindi guardi un po' Tutte le comunicazioni I poster che fanno C'è sempre quel logo lì Dopo un po' Ti rimani Il controllo della regione È tutto bello fluido E poi per la croce Sembra che abbiano ammazzato qualcuno lì E poi c'è invece il type Che è tutta un'altra roba A parte A sé Qui c'è ampio margine Per fare un rebranding Sì sì effettivamente sì Un sacco Un sacco Prossimo logo Oddio Oddio Ho tolto degli elementi Aspetta Io Credo di averci avuto che fare ultimamente E quindi lo so Ma tu li sai tutti E quindi credo di saperlo Allora non parlare No esatto Ma c'è incredibile Però è Non l'avevo mai visto così Cioè focalizzandomi È La rivisitazione della bandiera del Marocco in Valle d'Aosta È assurdo Esatto Magari quell'associazione Ti do un altro indizio Vai Cioè Non capisco Manca solo il type Io vi dico solo questo Il type sarà Giallo Giallo Cisissimo Non capisco È rosso perché è della Valle d'Aosta Allora la cosa più bella Secondo me Io non riesco a guardarmi Non mi fa male Mi fa male Sembra tipo quelli che devi guardare con gli occhiali Mi trattino Vi do un indizio È Non è un'azienda È un ente istituzionale Ripartiamo sempre lì Ritorniamo sempre su Credo O meglio Credo Correggetemi se sbaglio Io non lo so Non lo so Qua gli enti parlano Non lo so Potrebbe essere Tu hai detto Associazione Asili Nido Sì Associazione Asili Nido Potrebbe essere Non mi esprimo Non lo so Non so dove andare a parare Centro estivo Ci sono degli inizi C'è la montagna e c'è l'acqua Quella è l'acqua È rafting È rafting Tu dici rafting Non credo Secondo me è qualcosa tipo Quelle comunità montana Locali Però hanno i luoghi un po' più belli Mi fanno Fa un po' strano A me fa ridere il quadrato Non quadrato Fosse qualcosa sull'economia Però non è abbastanza vero Ma perché un quadrato Stort Ma perché un quadrato così Sembra una bandiera Che svolazza Tipo Vabbè Volete la risposta Sì Arpa Madonna Questo è l'uovo dell'Arpa Bellissimo Che cos'è l'Arpa È agenzia regionale Protezione Mi fanno male gli occhi Da rosso Troppo poco verde Allora Ogni regione Ha la sua Arpa Che si occupa Della misurazione Tipo Dell'inquinamento Di un sacco di cose In realtà Per la protezione Dell'ambiente Comunque Il suo riscaldamento globale C'è È tutto rosso Pieno Però immagino Che ogni Arpa Regionale Abbia il proprio logo E noi abbiamo Ok Andiamo avanti Questo devo dire Basta un pallino Azzurro Incredibile Non vi ho portato Solo esempi brutti No esatto Questo è davvero Un bel lavoro Questo è il logo Vabbè ormai Insomma L'avete riconosciuto Civoa Civoa Dovrebbe essere Compagnia Valdostana Delle Acque Sì Dovrebbe essere Non sono sicuro Commento Di logo Beh è molto semplice C'è questo puntino Pallino Cerchietto Che a vederlo così In realtà È una roba molto semplice Quasi banale Dovete andare a vedere Però come lo sfruttano Perché questo è sfruttato Davvero bene C'è dietro un'identità Un'immagine coordinata Anche la comunicazione social Soprattutto Tempo prima Adesso credo Non la faccio neanche più Troppissimo Però prima Effettivamente Aveva una comunicazione social Molto molto bella Tutto sfruttato Su questa forma Qui insomma Rimane Rimane impressa Anche i colori Anche i colori Anche i colori Sono bilanciati Sono due colori Che stanno bene insieme Non in verde Li riesci a guardare Per mezz'ora Senza farti male agli occhi Sì Bisogna dire Come logo in sé Messo così Forse Dice ok Si poteva anche magari In più sul CVA Ma sì Ma lì Cioè lì appunto Andiamo su a questioni Più personali Di stile Personale A livello funzionale Funzionale No a livello funzionale Funzionale Niente da dire Allora questi sono tre loghi Lo ho già visto Lo ho già uniti Belli dovete dire Tutte e tre Ok Allora Diciamo che due Anche per Due riso L'ultimo Il forte L'ultimo Ok Ultimo forte di bar Siamo d'accordo Quello in mezzo Anche ce l'abbiamo Quello in mezzo Area megalitica Ok E lo diciamo Ma solo perché Ne abbiamo parlato Recentemente E no Perché conoscevamo Davvero Esatto Eravate Va bene Eravamo istruiti Però il primo Primo Aspetta Il primo è solo Una piccola parte Non è magari L'osservatorio Tipo di San Bartolomeo No però Il concetto È simile Ci arriva lì Poi o meno Vanno tutti in alto Forse ce l'ho Skyway Ah Skyway È vero È vero Skyway È vero Ok È vero È vero Allora Facciamo un commento generale Vabbè Diciamo che l'approccio Per gli ultimi due È per l'area megalitica E il forte di bar Cioè l'area megalitica Ha ordinato il logo Del forte di bar Su Temu Tipo Immagini Guardate come è fatto il forte di bar È effettivamente questa cosa qua È strutturato È bello Questa stilizzazione qua Diciamo È fatto così L'area megalitica Invece non ha questa forma No No non ha questa forma Però al suo interno Ci sono tipo Dei Li chiamerei Menhir Adesso se c'è qualcuno Che Che è un Expert Comunque sono Dei 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 Saranno loro No Potrebbero essere loro Poi Porta anche una certa evoluzione Secondo me Ci sta anche il concetto Dell'evoluzione Dietro Secondo me No secondo me Qualcosa Relativo ai dinosauri Tipo Mi viene in mente Tipo le ossa Di dinosauri Non so Guarda io non penso Proprio che Si siano tracce Di dinosauri Mi cambia Quell'idea L'area megalitica Che ci sono Gli dinosauri Ma in un museo No Chi gli segue da fuori E vuole venire in Valle d'Aosta Andate a vedere L'area megalitica Veramente bellissima Esatto E scoprite A cosa si riferisce Quel logo lì Skyway Che cos'è? La funivia Che ti porta Punta il Brenner A 3000 E passa Metri d'altezza Esatto Ha un tot di ferro Cioè parte da una base In più a una fermata intermedia E una successiva Quindi ha anche senso La presenza di queste tre Stelline Non so perché stelline Però al di là di quello Che va nel cielo Perché va nel cielo Skyway Ma ha senso 3000 e 3000 e Un po' Non so Stupido E La parte di type La parte di type È Non c'è un po' troppo testo Sì c'è tanto testo Skyway Curmaier Valle d'Aosta Italia Monte Bianco Avrei aggiunto un paio di coordinate Sopra Ma secondo me quella roba lì Poi appunto Secondo me quella roba Che il grafico Ha fatto il logo Sì però bisogna dire Curmaier Ma mettono uno centrato Qua a destra Però non si sa Magari Curmaier Non so dove Allora metti Valle d'Aosta Però l'Italia E allora metti Anche l'Italia Io ho sentito un grafico rassegnato Dietro Sì tantissimo Ci mancava solo Europa Sento un grafico che dice Cavolo era così bello prima Adesso No esatto esatto Hanno praticamente sviluppato Un carattere tipografico a sé O ne hanno acquistato uno Che non so quale sia Però vabbè Prossimo Questo lo sappiamo Eh ovviamente Vabbè allora niente Questo lo sappiamo Questa è la fantastica Università della Valle d'Aosta Perché è un albero? Con la sede nuova che hanno Che è un sacco Identitaria Un sacco particolare Ha già tutto Ci starebbe un sacco Un bel riprending Che riprenda quelle linee lì Sì nel senso che Questa parte qui Non ce la vedo Legata a quella È molto legato Al concetto di università Esatto Quindi è molto un immaginario Guardando questo logo Universitario Sì Il fatto che La Valle d'Aosta Abbia comunque investito Su un edificio Che è molto particolare Ci sta magari Spingere un po' più su quello Secondo me non c'hanno nemmeno pensato Ma magari no Esatto Perché quello è Però veramente Le linee della nuova università Cioè ti stanno proprio servendo Un riprending Poi non è fatto male Perché è fatto bene Non funziona Funziona Sì sì è molto Però si addice bene Alla sede vecchia Sì esatto Al concetto di università Più che generale Classico Non è anche troppo classico Dire il vero Ben moderno Però renderlo un po' più Valdostano Nel senso Se tu invece Una mucca Una mucca Una mucca Le corse Sì Nel senso che magari Invece che Università della Valle d'Aosta Metti di Bologna Ci può stare Come logo Come pittogramma Con l'immaginario Dell'università Cioè comunque Con qualcosa Che riprenda la forma Della sede Tipo cambiare Tutte le foglioline E mettere la forma Della regione Su ogni fogliolina Sì esatto Esatto Questo ce lo vedrei Tantissimo fare Tantissimo Va bene va bene Vi abbiamo dato l'idea Allora Abbiamo finito La prima parte Di Analisi dei loghi Ma vorrei Concludere questa puntata Con una piccola parte finale Analizzando i loghi Dei partiti Valdostani Così almeno vi Giocate Completamente Il vostro Futuro lavoro attivo In Valle d'Aosta Perché dovete sapere Che in Valle d'Aosta Niente Ok In Valle d'Aosta Abbiamo alcuni partiti Che avete anche voi Fuori valle Quelli più grandi Classici Li abbiamo anche noi E alcuni partiti Invece Esistono solo qui Quelli sono veramente I migliori A livello grafico Secondo me E quindi Analizzeremo prevalentemente Quelli Faccio una specifica Ci sono veramente Tantissimi partiti E partiti Minuscoli Solo valdostani Ho selezionato Solo quelli presenti Attualmente Sia in consiglio regionale Che in consiglio comunale Ad Aosta Che sono 257 No 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 Che sono 9 Per ora sono 9 E ve li faccio vedere Tutti insieme Per ora Ok Allora a voi Allora a voi Che ci seguite da fuori Sicuramente alcuni Li riconoscete Perché ce li avete anche voi Magari in un'altra declinazione Altri invece Non vi dicono Assolutamente niente Analizziamoli Uno alla volta Partendo dal primo Union Valdotene Che cos'è l'Union Valdotene Nel partito storico Valdostano Autonomista Che ha Prima vi ho detto Il leone Fate casa al leone rampante Perché c'è giusto In un paio di loghi Sì Sì Qui abbiamo un leone barocco Qua è un leone Che fa un sacco di squat Perché ha veramente Il quadricipi Il quadricipi Il quadricipi Allora I colori sono quelli Della Valle d'Aosta Il rosso e il nero L'azzurro Non è un colore Il colore è del cielo Della speranza Quella treccia lì fuori Non mi è Tipo standardo Eh sì Sei il fulare Tipo dei coscritti È proprio il partito Dei coscritti È il fulare Dei coscritti Ah magari sono i coscritti È vero Però il bordo sembra Quello Quel doratino Da tanto Valle d'Aosta Con il rosso e nero È molto Valdostano Per l'elettorato tipico Di questo partito Secondo me questo logo Va benissimo Sì Avrei messo più rosso e nero Cioè proprio l'avrei reso Valdostano Boom Tu dici questo Ma io arrivo subito Arrivo subito con il prossimo Eccolo È per cui tanto Tanto rosso e poco nero Tanto rosso e poco nero Qua c'è da discutere Oh sto leone rampante Ma è proprio iscritto in un cerchio A livello tecnico grafico è perfetto Questo logo è recentissimo Perché è nato da una costola Di un altro partito Non mi ricordo Ma è ancora legato? No no Tipo che Quello Quello Ragazzi Poi facciamo una puntata In cui mi faccio spiegare Come funzionano le dinamiche politiche In Valdosta Penso che A un certo punto Uno sia uscito dalla Lega E abbia fondato questo partito Ah ok Mi ricordo Anch'io Ho visto la notizia Era così Era così Sì 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 Vabbè Commentiamo Allora Il leone rampante Come ho detto Secondo me Ci sta assolutamente Cioè proprio A livello grafico Però la questione è La coda Che finisce in due È solo per una questione Di bilanciarlo E farlo stare dentro Eh forse quello sì Però lo rende un po' più mitologico Un po' più particolare Non lo so Ma ci sta perché comunque Lo mette dentro il cerchio Però non capisco perché Ha due code Posso dire che A me guardare le zampe dietro Cioè mi fa male alle articolazioni Guardare le zampe dietro Ma quello è un po' in tuglia Cioè sembra che gli abbiano Rigirato le gambe No esatto Mi fa male un po' Mi fa soffrire proprio A livello fisico Sì a livello fisico Fa un po' soffrire Ci sono molte cose Che si potrebbero fare No con un partito Valdostano Perché di nuovo Il leone Eh ma questo qua Basta Questo qua guarda dall'altra parte Questo qua si è girato Perché quello dell'Union Valdostano Guarda a sinistra Il fatto di farlo guardare in avanti E farlo così moderno È una gran scelta Il fatto è che Anche perché il leone Comunque abbiamo capito Che è un simbolo tradizionale Nel senso che Lo ritroviamo Forzatamente tradizionale Forzatamente tradizionale La gente non sa perché Ma sa che lo è Quindi è già una buona cosa Il fatto di girarlo In avanti Secondo me è meglio Per una questione Più del guardare Al futuro È un dato che appunto Si legge da sinistra Verso destra Il destra è come se fosse La parte in avanti E non la parte indietro Quindi guarda al futuro Riprendendo la tradizione Poche parole Wow Ma l'hai fatto te Comunque andiamo avanti Sì Prossimo Lega Questo ce l'avete tutti La Lega è ovunque Ma io vi faccio notare Gli adattamenti valdostani Perché c'è il logo della Lega Ufficiale E poi c'è l'adattamento valdostano Del logo della Lega Che è veramente interessante No Bello Io lascio commentare a voi Cioè non c'entra niente le montagne sotto Ma letteralmente niente Ma sinceramente è meglio quello Che la strisciata di bandiera Tipo Coca Cola Che passa dietro così Tipo Pepsi, rosso e blu Quella è la Formula 1 Sì esatto La F di Formula 1 No però comunque Secondo me l'hanno adattato Come lo facevi? Boh Nel senso Probabilmente Dovendo adattare quello Dovendo mantenere Tutto il resto Perché effettivamente Salvini Premier L'hanno ridotto Per farci stare Valle d'Aosta Che ci sta Cioè effettivamente Non puoi cambiare più di tanto Come facevi lo sfondo Rosso e nero Il problema di queste cose qua E anche il fatto di Ci metti due bandierine Cioè rosso e nero Rosso e nero Che partono da sotto Arrivano fino alla L E fino alla A Quindi chiudi praticamente L'emblema Ah beh sì Poteva essere così Senza mettere una bandiera Che scolazza E' già complicato lì Queste robe qua Il leone è diventato più grande O sbaglio? No secondo me È solo aumentata la qualità La qualità che è diversa Sì è vero Ma anche il blu è diverso Però Se noti è un po' diverso il blu Però anche queste cose qua Hai un sacco di paletti Dettati non da te Ma certo Non è che puoi sbilanciarti Più di tanto Ma la montagna La montagna Non c'entra niente Non a casissimo Ah perché deve esserci Manca la mucca Potremmo mettere una mucca Nello scudo Cos'è? La spada Mucca Prossimo Nella scorsa puntata Voi avete fatto il logo Della Valle d'Osta Ma questo ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Dai Non ci contatti Non gli diamo il nostro logo Nella scorsa puntata Voi avete scelto come simbolo Della Valle d'Osta La Stella Alpina Senza sapere che Stella Alpina È un partito Però si distacca totalmente Giuro No Non era così il nostro logo Con la bandiera Valle d'Osta sotto Perché sennò Non si capiva Anche qui manca la mucca Ragazzi Però c'è la Stella Alpina C'è la Stella Alpina Vabbè Non c'è più niente da dire Andiamo avanti Questo è interessante Perché comunque rispetto agli altri Si distacca dalla Valle d'Osta Sì Secondo me questo è un tentativo Di essere moderno Senza esserlo Però si distacca Ma si distacca male Secondo me Cioè voglio essere moderno Ma non lo sono Qui ha detto Vabbè Abbiamo un partito Che si chiama Renaissance Cioè rinascimento Mettiamoci il simbolo del rinascimento Piazziamoci la Venere Avrei continuato Un pezzo della Venere sotto Di Bugiara Anche solo una linea In effetti sì Perché troncarla al collo Perché così rimane vuoto Ed è sbilanciato Cioè è completamente fluttuante Invece con una linea Che va giù Che la fa uscire Non c'entra niente Non c'entra letteralmente Cioè tutto guardi quello Sembra boh Facciamo un rebranding Prima di diventare sindaco di Ossa Ripartiamo da qui Non mi sembra impattante Come Va bene Vabbè Questo ragazzi È uguale in tutte le altre regioni Quindi non c'è niente da dire Pur l'autonomia Pur l'autonomia significa Per l'autonomia Che è anche il programma Che vi dobbiamo spiegare di più Io devo sempre capire Questa scelta dell'azzurro Che parte da una sfumatura In un qualche modo Che sia bianca Questa sfumatura c'è quasi sempre Io non capisco Sì Non lo so Anche questo sarà fatto Ma poi la vela d'Ossa È divisa in due Sì Ma che anni duemila Ma questo è Guarda che è successo Secondo me avrà al massimo cinque anni Anche veramente Ancora peggio Allora facciamo così Io adesso vi dico due cose Secondo me Positive E voi poi me le distruggete Positive? Sì Sono curioso Allora C'è il rosso e il nero E la valle d'Osta Quindi si capisce Che è un partito locale Ed è un partito Fatto apposta Che vuole Insomma Ci tiene i valdostani E l'altro Che c'è scritto Aspetta Aspetta E l'altro Che c'è scritto E l'altro Aspetta Aspetta È un partito locale L'ho sentito L'altro è per l'autonomia Quindi ancora di più Si capisce che loro Ci tengono l'autonomia E puntano Quello è il loro Primo punto Secondo me Della loro campagna Elettorale Insomma Vai Almeno non c'è la donna Di prima Nel senso così Ah quindi Però se ci fosse stato Il rosso e il nero All'inizio andava bene Perché comunque Era vantustato La donna Il problema è Che se vieni Cavolo Bisogna mettere sempre Il rosso Ecco Tu sei uno di quelli Che vuole il rosso e il nero Voglio il leone Rosso e nero No però C'è nel senso C'è sto rosso e nero Anche no Ma più che altro La divisione della valle d'Osta Così perché Cioè nel senso Poverini Cioè cos'è Da Osta in poi La bassa valle è rossa Non è ancora stato sbloccato Sì sì No posso È una barra di caricamento Andiamo avanti Andiamo avanti Ok Vabbè Questo ragazzi Io Questo è veramente Incommentabile Mamma mia Questo è Da spiegare Questo è Semplicemente Il progetto civico Progressista Che Quando nel 2020 Ci sono state le elezioni Era pure diverso Da questo logo C'era anche il PD dentro Solo che poi Poi hanno litigato E il PD si è sfilato Tenetevi pronti Perché sta per arrivare Il logo di quelli sfilati Quindi questo è diventato Un accrocchio Con diversi loghi Dentro Non Veramente io Non commenterei Forse c'è un problema Con i puzzle E le cose con i puzzle E andrei all'ultimo L'ultimo è il capolavoro Dei capolavori Vi preannuncio Che è La qualità massima Che ho trovato Ok Questo l'hanno stampato Solo su delle spille Allora Possiamo andare a intuizione Cos'è quella roba Nella F Si sono staccati Hanno fatto Penso sia Federalisti Progressisti Del PD Una roba così Partito Democratico Una matita C'è la F C'è una matita C'è una penna C'è una foglia E poi quella sotto la P È una noce Secondo me è una bomba Sotto l'altra P È una foglia Sì è la foglia Però quella è quella Del PD È sempre quella Non è cambiata No è sempre quella Avranno detto Visto che c'è un elemento lì Mettiamolo anche nelle altre lettere Ci sta Ci sta Poi mi sembra A vedere così Che Poi Pier coraggimi se sbaglio Ma Il carattere C'è la P Di FP È diversa dalla P Di PD Sì Sì Che potevano prendere Sono due P diverse Però qua invece Se calcoli che la bassa valle È a destra Hanno invertito i colori Qua la bassa valle sotto È nera E invece la destra È rossa Esatto Con la sfumatura Molto bella Molto bella Perché dipende da dove sorge il sole È vero Ma poi perché Ma poi La scelta del giallo e il viola È Boh Ha detto perché Si sposa bene con gli altri colori Ha detto mettiamo anche il giallo e il viola Non so veramente cosa dire Ma anche la scritta valle da host Bella No è tutto giusto È tutto giusto Bellissimo Allora FVPD Se volete mandarmi Un logo Non dico in altissima risoluzione Va bene anche base Però così Sono veramente 8 pixel Ma più che altro Almeno capiamo cosa c'è vicino Con la P Sull'F ci può arrivare Che è una pena La P Può essere qualsiasi cosa A me sembra una valigia C'è una valigia Una borsetta Una borsa Sì Io direi basta Abbiamo sofferto abbastanza È stato impegnativo Esatto Ma Io noto un certo pattern In generale Tra tutti i loghi Sì è un po' come Anche nell'altro puntato Dicevamo Non c'è una vera e propria attenzione Riguardo a quello Che effettivamente Un logo Cioè Perché un logo funziona Come funziona Eccetera Si pensa che il logo Sia semplicemente Un disegnino Apportato lì Che ti rappresenti Più o meno In realtà Il logo è La prima cosa che vedi Di un'azienda Eccetera Quindi è giusto Che racconti La stessa storia Che vuole Che l'azienda vuole Raccontare Alla gente E che quindi È molto importante Cosa che Come è sembrato In alcuni Dei loghi È un Abbiamo bisogno Di un qualcosa Che ci rappresenti Fai un disegno Della mucca Di quello Quindi nel senso Non è solo quello È molto di più È molto più importante Ed è giusto Che racconti La cosa giusta Nel modo giusto Che sia giusto Cioè sia completo Della comunicazione Dell'azienda Dell'ente Anche che per lì Sì Non deve raccontare Proprio ogni aspetto Perché cioè Non è un romanzo È piuttosto la copertina Nel senso Che tu da lì Hai una Una Presentazione Di quelli che sono I valori Di quello che è il tono Di questa azienda Ne vieni attratto Piuttosto E la riconosci Tramite quello Ma non solo Tramite quello Dietro ci devono essere Anche un sacco Di altri aspetti Ovviamente E quindi È un lavoro Che solitamente Va portato avanti Tenendo conto Di tantissimi elementi Che poi strutturano L'azienda in sé Quindi non è Semplicemente Un loghino Non si giudica Il libro della copertina Ma è una bella copertina Fa sempre comodo La copertina Ti porta A conoscere il resto E con questo Allora Nei commenti Mi raccomando Scriveteci Quale Rebranding Volete che loro facciano Poi loro Se hanno voglia Lo fanno davvero Lo ripartiamo Lo rifacciamo uno Dai uno 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 Quindi scriveteci Nei commenti Grazie per essere stati qui Un saluto Al vostro socio Samuele Che vedrà questa puntata Per la prima volta In questo momento Grazie per averci ascoltato E noi ci vediamo Alla prossima puntata Di Illumina Osta Ciao 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 a tutti